Persone che si permettono di mandare, che non soccorrono chi è in una situazione disperata. Non solo, la filmano e la mettono in rete. Io proprio penso che peggio di così non possa andare la situazione. Quindi spero vivamente che comunque vengano individuati i colpevoli e assegnate la giustizia. A parlare una parente, nel giorno dell'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, il 53enne morto lo scorso 24 marzo a Roma, a seguito delle gravi ferite riportate nell'incendio della sua auto avvenuto il 6 febbraio. L'incendio si è verificato lungo il grande raccordo anulare. Sandrelli, accortosi di quanto stava accadendo, ha fatto in tempo ad accostare e uscire dall'auto provando a liberarsi dai vestiti in fiamme. È in questo momento che alcuni passanti, anziché soccorrerlo, si sono messi a girare e pubblicare video con il loro smartphone deridendo la scena. La tragedia dell'indifferenza. È totalmente una cosa abominevole, io trovo, veramente. Capisco uno che dica io non me la sento di entrare dentro una macchina infuocata, non sono un eroe, ma qui non si tratta di eroe, ma nemmeno di stupidità, non lo so come poterla definire. Uno che sta a filmare, un uomo che prende fuoco e non fa niente. La procura ha aperto un fascicolo per capire i motivi del rogo e per omissione di soccorso. Sono stati affossati ideali, valori e bisogna ricostruirli. Questo è un grande problema, è un dramma della nostra società. Viviamo in un mondo dove non c'è più il rapporto umano a mio avviso, quindi vedere una persona in difficoltà per quanto mi riguardi mi sarei fiondato per primo ad aiutarlo, non certamente a fare i video, ma assistiamo a scene crudele tutti i giorni, come quando qualcuno in delle risse picchia magari un giovane e si riprende mentre questo viene massacrato davanti agli occhi di tutti. Oramai siamo davvero avulsi rispetto a quello che è un rapporto che dovremmo ricostruire. Il funerale si è svolto nella chiesa di Cristorea Camucia, nel Cortonese, dove la famiglia di Sandrelli risiede. A ricordare l'amore per l'arte è stata la sorella Maria. Accanto al feretro un quadro, Francesco era un artista, uno scrittore, vicino alla sua foto una pubblicazione, La casa nella foresta, in suo ricordo una poesia.